Italiano bello. Storie e letture in italiano. Gatto per un giorno. Epilogo. Codi. Padroncina ed io stavamo cercando Kira quando abbiamo sentito abbaiare in lontananza. Ho riconosciuto subito la voce di Kira. L'abbiamo trovata su un grande sasso in mezzo al fiume insieme ad un gatto che non si muoveva. Era bagnata Fradicia ed era di nuovo lei, la Kira che conoscevo. Siamo corsi al fiume e li abbiamo aiutati a uscire. Il gatto per fortuna non era morto, ma era svenuto. Li abbiamo portati subito dal veterinario. Kira stava bene. Aveva solo bisogno di scaldarsi un po'. Il gatto invece non stava benissimo. Aveva la febbre alta. La padrona del gatto è arrivata di corsa e non smetteva di ringraziare Kira e padroncina per aver salvato il suo Romeo. Ha raccontato che Romeo aveva una grande paura dei cani. Ma forse ora che è stato salvato proprio da un cane avrà meno paura, ha detto felice. Quando si è svegliato, Romeo ha fissato a lungo Kira. Poi ha miagolato qualcosa, forse per ringraziare. Kira, come risposta, gli ha leccato un orecchio. Siamo tornati a casa e quella sera a padroncina Kira ed io ci siamo fatti tante coccole sul divano. Kira era felice e molto stanca e si è addormentata quasi subito tra le braccia di padroncina. Sabato non siamo andati a vedere la sfilata di carnevale in città. Padroncina ha preferito trascorrere una giornata tranquilla insieme a noi. Né Kira, né padroncina, né io avevamo voglia di indossare un costume. Kira mi ha raccontato tutto quello che era successo. Di quando aveva trovato il costume, che ora probabilmente si trovava da qualche parte sul fondo del fiume. Del corteggiamento di quel gatto. A quel punto ho riso davvero molto. Fino ad una dettagliata descrizione del salvataggio. Kira era convinta di essere tornata un cane grazie al suo gesto eroico, come gli eroi delle fiabe che spezzano l'incantesimo della regina cattiva grazie all'amore, all'altruismo e cose simili. Kira era così orgogliosa che non ho voluto raccontarle la verità. Ma che importanza aveva? Per me lei era una vera eroina. P.S. Chi era la donna della lettera? Era forse una bis bis nonna di padroncina? E aveva una strega per amica? E perché mai aveva voluto avere quel costume? Forse lei amava così tanto i gatti che qualche volta voleva vivere come loro. Oppure era una supereroina che si trasformava in un gatto come Catwoman. Chissà.